Pasquetta a tutti, con sta pioggia che piove non ci fa fare la pasquetta a tutti. E vabbè, andiamo a visitare Ligna di Valle, il Museo dell'Euronautica. Allora vi saluto a tutti, ciao! E' perché piove, eh? Eh. Questi sono antichi. Questi sono... ...sono... 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 ...sì, sì, piove. E' un lago, questo. Non è il mare, Anna, è il lago. Lago. Acqua dolce. Acqua dolce, eh? Guarda, zia, l'aereo. Brrrr, come fa l'aereo? Brrrr, vada l'aereo. Come fa l'aereo? Come fa l'aereo? Come fa l'aereo? Come fa l'aereo? Brrrr, vada l'aereo. Io prima a mangiare, poi veniamo a visitare. Eh? Io prima a mangiare, poi io a visitare. C'è il fame? E ci faremo un panino lì? Eh, un panino. Io andavo al ristorante. Andiamo al ristorante. Andiamo al ristorante. Come fa l'argo. È un panino, non è una buonanza parata. Come fa l'argo. 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 Allora. 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 Grazie a tutti. 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 Che cosa? Grazie a tutti. 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 Wow. Grazie a tutti. Yeah. 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 It's a... Yeah. 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 And... Yeah. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Quanto è grosso Rientro a casa Abbiamo fatto una bella esperienza Abbiamo visto gli aerei Al museo dell'aeronautica militare È stata una bella giornata Torniamo a casa Buona fine Pasquetta a tutti Grazie a tutti Ok ragazzi This is the end of the video It was a splendid day And we enjoyed everything We did today And Ok guys We closed the video yet And also Kashi guys see the next video Bye Bye Ciao 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 Grazie a tutti